Procurata crisi dei cinegiornali e gravi problemi per la famiglia dei lavoratori di questo settore. Bisognerà arrangiarsi. Dox Junior, il sapiente cane poliziotto, ce lo insegna. Ecco com'è riuscita a vivere dopo essere fuggito da casa stanco di faticare in massacranti allenamenti. Gli è stato sufficiente procurarsi un secchiello e trasformarsi in accattone all'angolo di una strada. Tanto era sicuro che i suoi amici uomini lo avrebbero aiutato. Raccolto una certa sommetta, Dox ha fatto visita al macellaio. Proprio come una brava massaia. L'asillo della carne quotidiana è così risolto. Questo è il metodo adottato da Dox, ma si sa che i cani commuovono l'uomo, mentre è assai difficile che l'uomo commuova un suo simile, come del resto è impossibile che l'uomo si dia leggi giuste e autenticamente sociali.